carissimi pace pace del signore dio ci benedica questa mattina 11 novembre leggeremo i persi da 16 e 24 del capitolo 13 del libro di giosuè così a prima vista questo brano sembra una storia che non ha nessun significato spirituale ma credo che con l'aiuto del signore possiamo attraverso la guida dello spirito santo individuare anche nel resoconto di una vicenda storica degli elementi importanti per la nostra crescita spirituale l'autore sacro nel descrivere la divisione della terra promessa tra le dodici tribù menziona l'uccisione dell'indovino balam per mano dei figli di ruben e viene quindi spontaneo chiedersi per quale motivo questo fatto venne ripreso proprio in questo contesto c'è un insegnamento da considerare attentamente la verità dei figli di dio è e deve rimanere pura incontaminata escludendo ogni infiltrazione esterna balam è ricordato come il profeta mercenario orgoglioso ambivo un uomo che diede non poche preoccupazioni al popolo di dio era un professionista della profezia e la sua presenza tra i figli di ruben li avrebbe sicuramente distolti dal perseverare nell'insegnamento ricevuto dal signore per mezzo di mosè ora è importante considerare un aspetto relativo al servizio cristiano dio sia lodato per tutte quelle persone che hanno dei talenti naturali che vengono affinati mediante l'esercizio e lo studio e dio sia lodato perché in mezzo al popolo di dio ci sono tante persone che hanno veramente delle capacità straordinarie che possono essere una benedizione per la chiesa ma tutto questo non toglie il fatto che sia necessario che chiunque serve il signore in qualsiasi ruolo lo faccia perché uno è salvato quindi nato di nuovo due ha a cuore il progresso e l'opera di dio tre ha ricevuto dal signore la chiamata a svolgere un determinato servizio e possibilmente è stato dal signore stesso unto mediante il battesimo nello spirito santo per poter svolgere in modo efficace e potente ciò a cui è stato chiamato quindi i talenti sono importanti lo studio l'impegno sono di grande valore ma alla chiesa non servono dei professionisti soltanto servono delle persone capaci che però da dio sono stati unti per svolgere quel servizio lì voglio dire quando nella chiesa delle origini e questo lo leggiamo in atti capitolo 6 fu necessario scegliere delle persone che servissero alle mense cosa che si rese necessari in quanto erano sorti dei mormorii riguardo alla distribuzione dei viveri che nella chiesa di gerusalemme veniva svolta a favore delle vedove dei poveri nel tempo venne detto da parte degli apostoli si scelgano tra di voi sette uomini atti capitolo 6 verso 3 dei quali si abbia buona testimonianza che siano ripieni di spirito santo e di sapienza e che quindi possano svolgere questo compito non vennero chiesi chiesti innanzitutto dei requisiti tecnici ma vennero chiesti innanzitutto dei requisiti morali e spirituali e nella chiesa del signore deve continuare ad essere ancora oggi così continuo quando l'apostolo paolo diede istruzione a timotio riguardo a coloro che aspiravano all'incarico di vescovo dicendo che desideravano un'attività lodevole disse che il vescovo deve essere irrepensibile marito di una sola moglie sobrio prudente dignitoso ospitale capace di insegnare non dedito al vino non violento ma mite non litigioso non attaccato al denaro ma che governi bene la propria famiglia anche qui non vengono richieste delle qualità tecniche che sia un buon predicatore che abbia una buona arte oratoria che sappia di vincolarsi con i congiuntivi e i condizionali no no sono richieste delle qualità morali spirituali e poi tutto il resto dio sia salodato perché il signore saprà come servirsi di quanti hanno a cuore il progresso dell'opera di dio e si consacrano e si santificano e si impegnano ad onorare il nome del signore quando si dovette costruire nell'antico testamento il tabernacolo leggiamo che il signore disse questo a mosè è solo capitolo 31 io ho chiamato per nome besalel figlio di uri figlio di cur della tribù di giuda e l'ho riempito dello spirito di dio per dargli sapienza intelligenza e conoscenza per ogni sorta di lavoro per concepire opere d'arte per lavorare l'oro l'argento e il rame per incidere pietre da incastonare per scolpire il legno per eseguire ogni sorta di lavoro e gli ho dato per aiutante o liab figlio di a isamac della tribù di danna e ho messo sapienza nella mente di tutti gli uomini abili perché possono fare tutto quello che ho ordinato vedete come è il signore che sceglie che dona i talenti necessari e che opera attraverso gli uomini viviamo in un tempo in cui forse siamo un po troppo preso presi perdonatemi dalle dai talenti naturali e delle capacità umane sottovalutiamo la necessità e l'importanza che a servire il signore siano persone che amano il signore che hanno ricevuto la grazia nel loro cuore quella grazia salmifica che li ha resi delle nuove creature desidereremmo rendere i nostri culti quasi come degli spettacoli tecnicamente perfetti e attraenti ma ciò che rende attraente una chiesa non è la qualità della dell'oratoria di chi predica non è la qualità della musica che viene suonata mentre si elevano gli inni non è la qualità della voce e la bellezza del canto è l'unzione dello spirito santo è ciò che dobbiamo ricercare nella nostra vita quando vogliamo servire il signore quello che dobbiamo ricercare nella nostra vita e nelle nostre chiese è l'unzione di dio perché quando quell'unzione scende allora non solo diventiamo utili al servizio del signore ma vediamo anche la sua gloria manifestarsi e le nostre vite si rallegano e gioiscono perché dio è stato in mezzo a noi che signore ci aiuti a riflettere e a mettere in pratica questi insegnamenti che sono un bene nella nostra vita la grazia di dio la sua pace la sua presenza il suo amore ci accompagnino ancora oggi dio ci benedica cari